Una storia di donne che viaggia tra l'Italia e il Portogallo e si intreccia ai grandi eventi del secondo novecento in un'aura di magia e di mistero. C'è tutto questo e molto altro invicolo dell'immaginario, ultima fatica letteraria di Simona Baldelli, edito da Sellerio e presentato nella biblioteca comunale Massimo Rinaldi di Policoro. Nel corso della serata, organizzata dalla biblioteca in collaborazione con il presidio del libro Magna Grecia, l'autrice ha parlato del suo modo di raccontare la vita attraverso le sue storie. L'abbiamo incontrata per parlare del suo ultimo romanzo. Racconta una storia divisa in due, sospesa fra l'Italia e il Portogallo. Una parte avviene appunto in Italia, inizia diciamo alla fine degli anni cinquanta, attraversa tutti gli anni sessanta e termina all'inizio degli anni settanta, quindi attraversa il boom economico, il periodo della lotta armata, la strage di Piazza Fontana, che io racconto, di cui quest'anno ricorrono i cinquant'anni e la parte lisboeta invece ha uno spazio più breve. L'inizio degli anni settanta in particolare siamo alla vigilia della rivoluzione dei Garofani, quindi ci sono delle storie personali e anche delle storie pubbliche, politiche che si incrociano. Ero in Portogallo mentre ho trovato questa storia. Ero in Portogallo e sono capitata per caso in Vicolo dell'Immaginario, perché Becco di Immaginario esiste ed è un vicolo minuscolo di Lisbona, diciamo abbastanza vicino all'Alfama, il quartiere più conosciuto, più famoso. Ero lì, ero scesa in quel momento dall'elettrico, uno dei tram che attraversano Lisbona, sono capitata in questa sorta di buco fra le case come racconto nel romanzo e visto la targa ho pensato che era un titolo meraviglioso per un romanzo e appena ho pensato questa cosa mi sono vista attorno delle figure che hanno cominciato a raccontarmi qualcosa e a chiedermi di trasformarla in una storia, in un romanzo. Principalmente sono donne le protagoniste del romanzo, ci sono ovviamente anche delle figure importanti maschili, sono anche loro dei protagonisti ma sono un po' in minoranza, diciamo che è una storia femminile perché i temi importanti del romanzo, quelli sui quali si poggia tutta la storia, sono il rimorso e il rimpianto. E nella vita privata, negli accadimenti di tutti i giorni e anche in quella pubblica e storica, come dicevamo prima, quindi occasioni perse o giocate male, come il 68 ad esempio, o il concilio Vaticano II perché anche di quello parliamo e diciamo che sono sentimenti di solito che le donne sentono di più o comunque sentono in prima persona e quindi in questo caso, in questo romanzo ho dato più spazio a loro. ora.